Esiste un'arena sperduta nelle terre del sud di Aletzeia. Alcuni eroi l'hanno scoperta, attirati dalla sua potenza magica. E ora, questo campo di battaglia misterioso è pronto ad ospitare avventure epiche. Avrete il coraggio e la forza di affrontare l'arena dei cristalli. Entra nello stadio più pericoloso di sempre. Affronta altre anime eroiche in sfide all'ultimo sangue. Combattimenti, giochi di strategia e roleplay. Due modalità di gioco sulle regole di D&D quinta edizione. La battle royale, tutti contro tutti, tra obiettivi, plot twist e forze misteriose. E il dungeon orb, una corsa contro il tempo, party contro party. Che prima riesce a trovare e riportare alla base la sfera magica, vince. Da gennaio, sul canale YouTube Il Mondo di Aletzeia. Segui i canali social ed entra nel gruppo Telegram ufficiale per sapere come giocare. Aletzeia ti invita nell'arena dei cristalli. Sarai l'anima più forte di tutte.